ciao raffaele abbiamo raggiunto nella beauty della lingerie per chiederti calze collant però ne abbiamo eccetera io sto alla vetrina perché devo preparare una consegna perfetta domicilio domicilio mi chiedi di calze perché vedo che ne hai tante faccio una rapido slow motion per evitare che ci bannino il profilo perfetto in mano cosa c'hai? questo possiamo farlo vedere come altri amici nostri comunque li puoi trovare qui nel store a casa perché abbiamo tutte le vetrine e poi anche in video sul sito www.tebdelleros.com come ha fatto questo nostro libro e selezionare magari abbiamo tutti gli strumenti perfetto devono soltanto collegarsi può venire qua ragazzi bollone di vi aspetto ciao